E ci sono due volte del Sassuolo e quindi andiamo ad analizzarli entrambi, partiamo da quello positivo, il Sassuolo fino alla espulsione di tre soldi peggiore in campo, è una squadra che comunque domina il gioco, riesce lì davanti a essere parecchio pericolosa, non è un caso che tutti i giocatori sostituiti hanno un buon voto, quasi tutti hanno sei e mezzo, analizziamo quello di Pinamonti che si accolla il peso dell'attacco vista l'assenza di Berardi, Davvero molto bravo nel gioco di sponda, pronti via, fa un ottimo lavoro e mette una palla perfetta sulla testa di Matteo Serrique che si fa ipnotizzare da scuffetto, guadagna tantissimi calci di punizione a due occasioni buone, una va fuori di poco, nell'altra viene murato, quando ovviamente esce cala un po' il Sassuolo ma comunque la sua prestazione rimane molto buona e prende 6,5.